Io credo che si tratti di una svolta epocale perché per la prima volta 41 comuni si mettono insieme per gestire insieme la questione spazzatura. Significa fare un'alleanza fra comunità territoriali al fine di avere una idonea dotazione di impianti. Questo significa che noi investiremo e potenzieremo la raccolta differenziata e saremo in grado di trattarla con impianti di prossimità. Questo significa che il costo complessivo del servizio è destinato a diminuire in capo naturalmente agli utenti finali che sono i cittadini. Dal 30 giugno è una data per la quale tutti, diciamo, l'iter burocratico per far sì che le due amministrazioni, Città San D'Angelo e Pescara, possano deliberare come noi già abbiamo fatto, abbiamo già deliberato in Consiglio Comunale, avvenga e si pongono in essere tutte le carte per superare la burocrazia che è richiesta per giungere alla parola fine. Un bacino si parte dalla provincia di Pescara con queste ambizioni ma che potrebbero anche andare oltre perché sappiamo tutti come funziona l'Agir. Si parte da un subambito provinciale ma con una società interamente pubblica, con un capitale di 4 milioni e 800 mila euro, si può ambire anche a qualcosa di più. Nel workshop è un workshop a livello nazionale, quindi siederanno i tecnici che parleranno del futuro dell'impiantistica pubblica nella provincia di Pescara e anche in Abruzzo. Finalmente si inizieranno a porre le basi per far sì che la mano destra sappia quello che fa la mano sinistra e quindi la politica fa il suo, i tecnici fanno anche la loro parte ma soprattutto siano sopportati dall'impiantistica. Non esiste nessuna indifferenziata, non esiste nessun risparmio da parte dei cittadini se il rifiuto non diventa una risorsa. Io quello che trovo insopportabile è l'idea, il principio quasi che a guadagnare con la spazzatura siano solo i soggetti privati. Noi vogliamo rivoltare questa idea e dimostrare come anche il sistema pubblico, superando la logica del campanile, mettendosi insieme in grado di erogare un servizio di qualità a prezzo più basso avvalendosi di impianti per il trattamento dei rifiuti.